Ministro, la politica cerca il vino perché? E valori? Primo perché fa bene, secondo perché è business, terzo perché è tutela del territorio, quarto perché è l'Italia nel mondo. Unione Europea, la PAC, cosa dire? Partiamo male, nel senso che il bilancio dei prossimi sette anni ci toglie almeno due miliardi di euro, non voteremo mai come governo italiano un bilancio che toglie soldi all'agricoltura italiana. E soprattutto non batteremo per difendere il made in, cosa che fino ad oggi non ci è stato possibile fare. Ma lei che vino si ritiene? No, no. Un Barolo, un Brunello, un Prosecco? No, no, mi piace fermo, il vino per me è rosso e fermo, quindi un rosso fermo ma tranquillo, non un'eccellenza, un vino normale.